Buonasera a tutti voi, le notizie che vengono dalla Protezione Civile Nazionale ci conferma ormai un dato che è costante, il numero dei contagiati ormai si aggira intorno alle 2.000 unità ogni giorno, nello specifico oggi parliamo di 2.091 nuovi contagi in Italia, i deceduti sono 382 quindi ancora alti e per cui sempre, e lo dirò ogni volta, numeri che provocano dolore in ognuno di noi, i guariti sono 2.317 in Italia, l'incremento dei positivi segna ormai costantemente, tranne la parentesi dall'altro ieri, un meno, per cui meno 608, cioè rispetto a ieri oggi abbiamo 608 persone in meno che risultano positive al coronavirus in Italia. In Puglia i nuovi contagiati sono 22 a fronte di 1.520 test effettuati, sempre poco più dell'1%, l'1,3%, pochissimo, bassissimo. In Puglia potremmo dire che veramente i dati sono tanto incoraggianti dal farci guardare con ottimismo il futuro, ma senza mai perdere di vista quanto sia insidiosa questa malattia, perché questo sarebbe un errore grave se dovessimo commettere un errore di questa natura, se dovessimo sottovalutare questa malattia, non ce lo possiamo permettere. Il totale di positivi in Puglia dall'inizio oggi è di 3.980 persone, sono decedute 407 persone, guarite 654, attualmente risultano positive 2.919 persone. In provincia di Brindisi per la prima volta abbiamo un dato zero e non è un dato zero legato a dinamiche di mancanza di trasmissione di dati, di numeri, perché è accaduto in passato che arrivasse zero, ma era legato al fatto che i tamponi venivano lavorati fuori dalla provincia e per cui i dati arrivavano il giorno successivo. Questa volta è zero perché a fronte dei tamponi effettuati zero persone residenti in provincia di Brindisi sono risultate positive. Questa veramente è una bella notizia e comunque noi registriamo in questa provincia 554 contagi dall'inizio ad oggi, quindi comunque rimane una delle province che in termini percentuali è risultata maggiormente colpita nel sud Italia. A Mesagne i numeri sono fermi a quel 33 di cui ormai parliamo da diverse sere, 18 persone ancora positive, 3 presso l'ospedale, 15 presso il proprio domicilio, però molti di loro stanno già facendo i tamponi, quelli che poi segneranno nel caso in cui dovessero essere confermate due negatività la guarigione definitiva di questi nostri concittadini, 13 persone sono già guarite e due decedute. Oggi il Presidente della Regione ha emanato una ordinanza che ha allargato alcuni spazi di libertà rispetto alle determinazioni assunte dal Governo centrale. Tra l'altro rispetto alle decisioni che ha assunto il Governo centrale siamo in attesa delle cosiddette FAQ, per cui le risposte alle tante domande che i nostri concittadini, gli italiani, stanno ponendo il Governo rispetto ad alcune cose che sono di difficile interpretazione rispetto al decreto che è uscito. Però ribadisco, il decreto è uscito con 8 giorni di anticipo proprio perché il Governo evidentemente immaginava che a fronte di queste novità introdotte ci fossero tante richieste di chiarimento e a queste richieste di chiarimento in questi giorni usciranno delle notizie più puntuali che noi comunicheremo ovviamente. Però nel frattempo le Regioni che hanno una possibilità di muoversi con un po' di autonomia, ovviamente nei termini previsti sempre dalla norma e sempre su indicazioni di coloro che hanno competenze scientifiche, per cui in Puglia questa ordinanza che ha minato il Presidente della Regione e che riapre alcune attività nel nostro territorio regionale sono state concordate anche con il Dottor Lopalco, il Professor Lopalco, perdonatemi, che è uno dei massimi esperti virologi italiani e le novità stanno nel fatto che dal 29 aprile in poi potranno ad esempio aprire all'asporto tutte le attività di ristorazione. Ovviamente vi è un divieto del consumo all'interno dei locali o in prossimità dei locali, cioè uno va presso la pizzeria, il ristorante, il bar, cioè le attività che possono fare l'asporto, compra il cibo, lo porta a casa e lo consuma a casa. Ovviamente occorrerà rispettare le regole del distanziamento sociale, si può entrare uno alla volta quando si va a fare l'acquisto, è ovvio che le regole vanno rispettate, però questa è un'ulteriore novità che permetterà alle attività di ristorazione e non solo, ma a tutti coloro che si occupano di asporto, di poter riattivare questa attività già a partire da domani. Sarà consentita a partire da domani la tolettatura degli animali di compagnia a previo appuntamento, per cui bisogna telefonare, prendere un appuntamento e si può portare il cagnolino, il gatto per la tolettatura. Sarà consentita la pesca amatoriale a partire da domani, ovviamente a chi ha le autorizzazioni per questo genere di attività e sarà anche consentita l'attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da di porto. Inoltre l'altra novità che abbiamo veramente appreso con molto favore è che sarà possibile riaprire i cimiteri. Noi avevamo già pensato di farlo a partire dal 27 di aprile, avevamo già fatto un calendario che ci permettesse di ripartire, però il prefetto ovviamente fatte alcune sue valutazioni ci ha chiesto di non procedere. Oggi questa ordinanza della Regione Puglia ci permetterà di procedere e noi per un fatto meramente organizzativo piuttosto che partire da domani partiremo da dopodomani. Quindi da giovedì mattina in poi dalle 8 alle 18 noi apriremo il cimitero ogni giorno per 10 ore al giorno escluso il primo maggio, però cadenzando gli ingressi perché è evidente che non possiamo permetterci il lusso di fare andare tutte le persone insieme al cimitero. E da questo punto di vista quindi dal 30 aprile in poi, quindi il primo giorno è giovedì prossimo, coloro che hanno il cognome che comincia con la A, con la B o con la C potranno recarsi presso il cimitero dalle 8 alle 18, potranno essere accompagnate da un congiunto, cioè si può andare insieme alla moglie, si può andare insieme al figlio, però al massimo in due. Lì dove invece dovessero esserci degli anziani che hanno difficoltà a deambulare e hanno ad esempio l'abbadante, possono anche farsi accompagnare dall'abbadante, però attenzione che l'ingresso è consentito una volta a settimana perché questo calendario che faremo sarà sviluppato sull'arco di una settimana che si replicherà, per cui se va, che ne so io, Calò e viene accompagnato da Matarrelli, quando arriverà la M Matarrelli non potrà più andare perché è andato insieme a Calò, è chiaro, proprio per evitare che ci sia la ressa. Questa, ribadisco, è un'opportunità che noi avevamo pensato già di dare prima, adesso la legge ce lo consentirà, quindi da giovedì mattina dalle 8 fino alle 18, orario continuato e compreso anche domenica 3, sia chiaro, solo il primo maggio non sarà possibile, si potrà andare al cimitero anche accompagnati da una persona, poi per chi ha invece problemi di deambulazione e ha il permesso di entrare in macchina il giorno consentito per questo genere di opportunità e il mercoledì, così come è sempre stato. Dal 4 maggio sarà possibile spostarsi presso le seconde case di proprietà per la manutenzione delle stesse, per cui se ci sono da fare punizie, manutenzione, noi qui a Mesagni abbiamo veramente una tradizione di case in campagna, questa è una tradizione storica, c'erano tantissime famiglie che hanno una seconda casa, quindi dal decreto del governo questa opportunità sembrava bandita, ora invece l'ordinanza delle ragioni permetterà di raggiungere le case in campagna per le pulizie, per i lavori, eccetera, eccetera, e se uno dovesse avere la casa di proprietà anche al mare può andare anche presso la casa del mare. Un'ulteriore novità introdotta da questa ordinanza è il fatto che per chi rientra da fuori regione dovrà fare 14 giorni di quarantena alla pari di chi viene dall'estero, perché la legge nazionale prevede che chi rientra dall'estero deve stare per 14 giorni in casa e invece per le regioni era demandato alle regioni questa opportunità e il presidente della regione Puglia ha ritenuto, secondo me anche a ragione, che chi viene da fuori regione dovrà stare 14 giorni in casa per tutelare se stesso e per tutelare gli altri. Oggi c'è stato un piccolo incidente, stamattina il mercatino di Coldiretti che si tiene in piazza Gioberti ad un certo punto ha visto un assembramento. Sono stato messo al corrente di questa cosa, mi sono precipitato presso piazza Gioberti per verificare con i miei occhi come funzionassero le cose, ci siamo un po' chiariti, perché se questo genere di attività è consentita, è consentita nella misura in cui tutte le persone sono in sicurezza, sia ovviamente coloro che vendono il prodotto, quindi i commercianti, ma anche gli avventori, coloro che vanno ad acquistare. Per cui dopo questo piccolo incidente ci siamo chiariti, il mercato sarà chiuso, ci sarà solo un punto di ingresso e ci sarà una persona di Coldiretti che regolamenterà il flusso affinché non ci siano mai assembramenti. Io ho detto chiaramente che sono a favore che tutte le attività possano procedere, possano lavorare, però a condizione che ci sia la sicurezza di cittadina, altrimenti poi sono costretto, mio malgrado, a chiudere questo genere di attività. Tornando su questo argomento, io domani riceverò una delegazione di alcuni artigiani, parrucchieri, estetisti, mi hanno chiesto un incontro perché evidentemente è una categoria che si sente penalizzata dalla norma nazionale e da certi punti di vista in una realtà, quale la nostra, dove il contagio è pari a zero, mi pare anche di essere abbastanza solidali con questa categoria perché se è vero che dovrebbero ripartire il primo giugno, cosa mai potrebbe cambiare rispetto ad oggi, visto che il contagio è pari a zero. Se ci sono dei modi per evitare il contagio, quindi se c'è una metodologia di lavoro che lo può impedire, tanto vale far avviare anche queste attività e l'auspicio è che questa cosa possa avvenire. Comunque io mi farò portavoce giovedì alle 10.30 quando avremo la conferenza dei sindaci con il prefetto e con il direttore generale di queste istanze, perché ci sono diverse attività che secondo me potrebbero essere avviate quanto prima e mi riferisco anche a tante altre attività commerciali, perché già per loro natura non hanno al loro interno assembramenti, perché c'è un'attività commerciale dove vanno 10-15 clienti al giorno, uno ad ora. Speriamo che si possa convincere il Governo centrale, attraverso anche un intervento delle Regioni, a cambiare un po' l'indirizzo rispetto a questa cosa. Io mi impegnerò in tal senso, ci sono tante categorie, ad esempio io penso ai dentisti che svolgono una funzione centrale, però i dentisti non possono aprire finché non lo dirà lo Stato, finché lo Stato non stabilirà che possono lavorare in sicurezza. Tra l'altro i dentisti rappresentano una categoria che hanno affrontato tante problematiche serie, perché hanno dovuto superare la stagione dell'epatite, dell'HIV, quindi è una categoria strutturata, una categoria forte, che però oggi purtroppo vedono limitata l'orazione alle urgenze, proprio quelle più gravi, perché evidentemente, alla pari dei fisioterapisti, degli ortopedici e di tante altre persone che si occupano della salute dei cittadini, che oggi hanno delle limitazioni profonde. Io sono dell'avviso che in questa fase, in questo contesto, a prescindere dal lavoro che facciamo, abbiamo da stare insieme, da essere solidari l'un l'altro e non assolutamente dobbiamo pensare invece di scatenare una guerra tra commercianti, tra persone, tra categorie, tra medici, perché non ha nessun senso. Ora è il momento della solidarietà e attraverso anche un'azione di controllo e di rispetto rigoroso delle regole potremmo probabilmente aprire tutti senza gravi conseguenze. Grazie, ci sentiamo domani.